Buongiorno, buongiorno e buon venerdì 8 luglio. Eh, sono tornate fuori, le avevo lasciate un attimo nel cassetto e per il sorpasso la prossima volta e le ho rispuntate, le ho fatte rispuntare fuori dal cassetto per ricordare lo scudetto vinto ma soprattutto per dare uno stimolo ai nostri dirigenti perché questa maglietta sia senza età perché vedete e per il sorpasso la prossima volta 19 per farlo trasformare in 20 con vicino due stelline manca poco, manca solo che il Milan manca poco perché i giocatori in Milan la cosa più difficile li ha individuati, sono i soliti, li ripetiamo, non ci sono enormi novità ma è importante che li abbia individuati e sono De Keteler, il giovane, il talento e sono Ziyech, l'esperienza e sono Sanchez, la potenza e la fisicità oltre che a Origi, a Pobega e ad Adli. Il Milan ha individuato i giocatori, ora resta solo il fatto di portarli a casa. Direte, beh, beh direi che non è poco, sì ma intanto le trattative diventano sempre più calde. Il Milan dice dobbiamo anteporre alla fretta, no, dobbiamo anteporre alla fretta la scelta oculata, la scelta intelligente, la scelta da non sbagliare. Si è cominciata con uno Righi, chiamiamolo così, uno Righi che ieri si è presentato con faccia intelligente, con discorsi concreti, con discorsi equilibrati, già un ragazzo straordinario. Ieri un altro ragazzo straordinario, la presentazione del suo libro, parliamo di Oliviero lo Spardiero Giroux, altro giocatore che è venuto al Milan perché era tifoso del Milan, perché ha sempre amato il Milan. Ma quello che conta adesso, voi mi chiederete, la situazione, il punto di De Keteler, di Ziyech, di Renato Sanchez, di Dybala, che in questo momento però lo ritengo un po' a parte, un po' più lontano degli altri dal progetto. Il Milan va su De Keteler, forte della volontà di De Keteler. Ripeto, c'è differenza tra Botman e De Keteler. Botman ha scelto il Newcastle perché aveva capito che il Milan forse non avrebbe mai preso e forse ci avrebbe molto azzeccato pensando a questo, il buon Sven Botman. Mentre De Keteler sa che Milan lo vuole e lui vuole il Milan. Gli agenti sono stati a Milano, con l'entourage di De Keteler non ci sono problemi. Ora sta a vedere, il problema è scalfire il Bruges, il muro del Bruges. Abbiamo forse degli altri scalpellini per scalfire questo muro. Si chiamano Jungdal, si chiamano Robach, sono i due ragazzi della primavera che Milan potrebbe inserire offrendo poi come massimo 30 milioni. Magari con 25 i due giocatori la trattativa potrebbe definitivamente avviarsi. Non bisogna avere premura. Io ho premura ma conoscendo i dirigenti del Milan non bisogna avere premura e aspettarsi magari la soluzione immediata. Mi dicono sempre che è un po' dura, che è sempre un po' complicata. Ma le notizie buone ieri arrivano dal Chelsea, che sembra che abbia messo definitivamente fuori dal progetto Ziyec. Ziyec è un po' nella situazione di Dybala. Sì, è vero, ha un contratto mentre Dybala non lo ha. Ma da giocatore, da orgoglioso giocatore, da nazionale, titolare della nazionale marocchina, vorrebbe giocare, vorrebbe essere sempre protagonista. E visto che Tuchel l'ha un po' tolto dal progetto prendendo Sterling e ritenendolo non più fondamentale, Chelsea in questo momento lascia andare giocatori che ha pagato tantissimo. Mi sembra che anche Ziyec sia costato una cifra elevata, ma il progetto di Tuchel adesso è avere una rosa ben individuata, una rosa ben precisa, una rosa che possa essere funzionali ai suoi progetti. E Ziyec non lo è. E allora portiamola a casa. Ma Ziyec, se vuole giocare nel Milan, deve solo fare una cosa. Telefonare? Pronto, quarto piano, casa Milan. Sì, buongiorno, va bene, quattro e mezzo il mio ingaggio, oppure datemi un anno in più a quattro e mezzo, che praticamente è come se ne prendessi due a sei. Quindi basta che lui telefoni e il Milan certamente prenderà in seria considerazione la situazione. Mentre, come dicevo, la situazione invece di Dybala è un po' defilata, è sempre attuale la situazione del giocatore che personalmente forse ha meno fascino di De Keteler, ma il giocatore dà la tremenda sostanza. È il giocatore che può riempire due ruoli, proprio come piace a Pioli quello che ha fatto anche Chessy. E parliamo sempre di Renato Sanchez. Il Paris Saint-Germain, le voci dalla Francia dicono che abbia un po' mollato l'idea di prendere il giocatore. Il Paris Saint-Germain è impegnato a regalare a Galtier, al nuovo allenatore, una rosa di qualità ma non troppo elevata di quantità. Ed è quello che ha chiesto l'allenatore, l'allenatore francese. E allora, avendo preso Vitigna, avendo già tre, quattro, Bainaldo, un comprato l'anno scorso, si è visto pochissimo. In questo ogni tanto tentativo di prendere più giocatori senza poi ottenere grandi risultati, finalmente il Paris Saint-Germain forse non cadrà nella trappola mentale di andare proprio su Renato Sanchez. Lo volevano far credere al Milan, forse, di questo interessamento di Renato Sanchez da parte del club parigino. Ma riteniamo che ormai Renato Sanchez, il gioco di Renato Sanchez, il gioco nel tentativo di far lievitare la, diciamo, l'offerta del Milan, che come sempre oltre i quattro e mezzo non è andato, non andrà su, a sei. Ma il Milan non cade mai in questi trabocchetti, in questi tentativi di forzargli la mano. Paolo Maldini e Ricchi Massara non hanno, non subiscono di questi, sono molto attenti su questi giochi che rendono anche interessante il mercato, queste schermaglie di mercato, ma loro sono belli ieratici, fermi, come un sacerdote del Monte Athos e dicono no, non ci interessa. Per quello che riguarda la difesa possiamo tenere vivo un giocatore che a me non fa impazzire, che è Tanganga, è un giocatore solido, un giocatore della buona qualità, arriva dall'Inghilterra e io lo paragono sempre l'Inghilterra alla scuderia dei cavalli dell'Aga Khan. Li prendi da lì, c'è un buon sangue, parlo dei cavalli, c'è un buon pedigree, parlo sempre dei cavalli, c'è la qualità e parlo sempre dei cavalli, ma, ma attenzione, perché il Milan che va a prendere un giocatore dall'Inghilterra ha sicuramente la possibilità di vedere tutte le caratteristiche del giocatore abituato in Inghilterra poi applicate nel Milan e abbiamo visto per esempio Tomori, che splendido giocatore sia Giroud, che splendido giocatore sia. Attendiamo nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, la ratifica del contratto di Zlatan Ibrahimovic, altro giocatore fondamentale, altro giocatore che spero firmi presto per mettere un altro tassello importante nella rosa 22-23. Una rosa che è accompagnata dall'affetto dei tifosi, sono 40.000 i tifosi che si sono abbonati, avranno diritto ad avere come prelazione per le partite di Champions due biglietti e quindi sono tanti quelli che vogliono stare vicino ai ragazzi. Il Milan continua ad allenarsi a Milanello, lunedì o martedì, interessante. Potrebbe esserci la presentazione di Adli, altro giocatore che arriva da una stagione tribolata sul piano societario, perché il Bordeaux addirittura è retrocesso e sembra che il comitato nel Dipartimento nazionale del controllo gestione, il famoso di NCG, non abbia trovato i requisiti giusti per il Bordeaux per disputare il Bordeaux, nemmeno la Ligue 2. Quindi è stato un anno travagliato per questo giocatore che attendiamo con grande curiosità. Io sto già fremendo per vedere la partita contro il Colonia, non potrò essere a Colonia, però sarò in vacanza in Sicilia e sto già andando a trovare il televisore. Non si sa ancora quale sia l'emittente che la trasmetterà, ci sono delle voci, ma è meglio che in questo momento non le dica perché non sono sicure, non sono confermate e quindi mi sembra sciocco andare a dare delle anticipazioni che vi darò appena possibile. Origi, anzi Origi, scusate, devo cambiare un po' il modo di chiamarlo, si è presentato ieri, dicevo, lo rivedremo fra un mese, un mese e mezzo, ma non è un problema. L'importante che siano bene gli altri giocatori e che presto arrivino i giocatori di cui continuiamo sempre a parlarne. Parliamo di De Keteler, parliamo di Ziyech, parliamo di soprattutto Renato Sanchez, che io ripeto, nella mia testa è il giocatore che io preferirei vedere. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, ma soprattutto ricordate ieri è uscito il podcast, la terza puntata, il 2012. È una puntata avvincente, piena di episodi, ricco di aneddoti e spero proprio che sia una puntata ricca di aneddoti e spero proprio che sia una puntata che vi piace e che andiate ad ascoltare su Spotify. Se vi è piaciuto questo video ripeto mettete il vostro like, ma soprattutto attivate la campanella.